La Music Art Management è lieta di presentare in esclusiva per la Puglia Area Sanremo Tour 2018, l'unico contest itinerante ufficiale che permette di accedere a Sanremo Giovani. Iscriviti gratuitamente alle selezioni e ai casting previsti per sabato 26 maggio presso il Teatro Mercadante di Cerignola, inizio ore 17. Il regolamento lo trovi su www.areasanremotour.it, responsabile per la Puglia Carlo Gallo, 348 7032 505. È un evento patrocinato dal Comune di Cerignola, assessorato alle politiche giovanili e sport.